Un momento cruciale quello che stiamo vivendo per il Banco Popolare, si parla di un passaggio a una SPA, la gente un po' è curiosa, un po' è preoccupata, che cosa si sente di dire? Ma intanto la prima cosa che mi viene proprio spontanea è che bisogna essere qui oggi per vedere il seguito che i nostri soci hanno per la loro banca. Un'assemblea in un momento è vero cruciale, un'assemblea molto partecipata, un'assemblea che si sta svolgendo in ordine e mi piace sottolineare anche i contenuti degli interventi dei soci, che sono dei contenuti veramente importanti. I soci si rendono conto che siamo a un passaggio veramente storico e io ai soci posso dire questo, con grande convinzione, noi siamo stati, siamo e continueremo a essere una banca popolare. A noi il territorio non ce lo toglierà nessuno, nessuno ci può trasformare per decreto il nostro DNA. Noi siamo una banca popolare, abbiamo vissuto, abbiamo passato momenti anche complicati sui territori, adesso che le cose si stanno girando per il meglio vogliamo essere protagonisti di questo sviluppo. Anche se dovremmo trasformarci in SPA, come ho detto prima, la nostra identità nessuno ce la cambierà. E questo i nostri soci devono stare tranquilli perché è la nostra missione, la nostra sfida. Sappiamo benissimo che questo vorrà dire una grande responsabilità, un grande senso di appartenenza al territorio, ma noi abbiamo le idee chiare e sappiamo perfettamente qual è la strada che dobbiamo seguire. Voglio inoltre ricordare che su questa strada non mancherà anche un'importanza per il territorio del nord-ovest e per la nostra divisione, la divisione della Banca Popolare di Novara. Noi ci candidiamo a essere un punto di riferimento bancario, finanziario, ma anche sociale per lo sviluppo del nostro territorio.